Che c'è? E' un attimo! Ciao! E' un attimo! No, qua davanti, guarda qua Perché è qua lo schermo E' qua quello che ti vede, vedi Marte? Qua davanti? No, qua, qua Vedi che se ci metti la mano davanti si vede? E' un attimo! Come vai? Ti nascondi? Stiamo giocando al nascondino Io e la Mari contiamo Via! No, Marte! Stiamo venendo a cercarti, Marte! Ti sei nascosto bene, eh? Devi fare silenzio, così non ti troviamo Ma ti abbiamo trovato Ma non mi fai farti trovare Ma non mi fai farti trovare Ma non mi fai trovare Ma non mi fai仲 Ma non mi fai fatto